E' una rassegna sportiva. L'obiettivo primario dovrà essere quello di una dimostrazione di questo sport e di cosa facciamo noi anche durante il periodo estivo oltre che il periodo invernale. Per cui faremo una dimostrazione che dovrebbe partire, adesso non abbiamo ancora definito il tutto, ma orientativamente dal ponte cosiddetto di Chiuso a Introbio vicino a Cade Martiri sino ad arrivare alla sede della comunità montana. Per cui non abbiamo ancora definito se sarà una staffetta, se sarà una sprint o se sarà una semplice sfilata con tutti gli atleti che in amicizia dimostreranno un po' questa disciplina sportiva. Per dimostrare il nostro impegno in questa occasione che vede la Valsassina coinvolta in questi due giorni di sport molto particolari. Ne approfitto per ringraziare l'amico Adriano che è stato un po' il coordinatore di questo evento e speriamo di dare una mano concreta al fine di una buona riuscita di questa prima rassegna. Grazie 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 Grazie